Tuo marito è in ospedale perché tu hai tentato di evirarlo. Io sono la vittima avvocato, io sono stata tradita e lui quanto gli danno? Lui quanto? Quanto? 180 punti di sutura Cecilia sul cazzo! No! Avvocato! Che mi chiedevo di scuola! Signor sindaco, colleghi! Che hai? Dice che potrebbe essere legato anche ad un trauma piccolino! Ma che cazzo fai? Forse non ci siamo capiti, io e lei siamo proprio amici, non c'è nulla di... Tu lo sai bene come stanno le cose? Ma qua è un amico! No la gonna, no! Di fronte ad un danza all'ombra sono sentita una mignotta. Non ho capito solo una mignotta? Mi ci raccomando, ti metti una volta Cesenasta! Io ho capito Cesenasta! Che è Cesenasta? E vuoi tu prendere qui presente Giovanni e Orlando come tuo legittimo sposo? Sì, certo lo voglio! E allora vi dichiaro marito e moglie! E ripassiamo! Eccoci qua! E suona! E poi lo facciamo! Mi ha messo una placca nel ginocchio sinistro! Prodi a passare solo con quella gamba! Provi con l'altra ora! Ganniamo il capitano! Ganniamo un ortopedico! Smoltate il ginocchio come a Big G! Ma non mi venire a dire che hai ritrovato un'amica con la quale parli bene perché se no io impazzisco, non ci credo! Ce lo taglio! Avete mai visto un aereo dirottato da un ginocchio? Avete mai visto uno che arriva e minaccia? Mani in alto, sono armato, ho dell'acciario nel ginocchio! Ma che ragionamento è? Finito? No! La sentita è la secunzione! La sentita è la secunzione! Iniziamo!